Il passaggio di un debole fronte freddo sulla nostra regione determinerà un po' di instabilità nella giornata di sabato in rapida risoluzione a favore di una rimonta anticiclonica nei giorni seguenti. Sabato avremo quindi di notte e a prima parte della mattinata ancora la possibilità di qualche locale rovescio temporale segnatamente sulla costa e sul mare con un vento di bora moderato o borino. Poco nuvoloso sulle altre zone, il poco nuvoloso poi prevarrà probabilmente nelle ore centrali del primo pomeriggio su tutta la regione. Sempre nel pomeriggio poi ancora un po' di instabilità in montagna, qualche isolato rovescio temporale, forse anche sulle zone orientali, in particolare sul Carso. Temperature in lieve diminuzione, massime 28 gradi in pianura intorno ai 25-26 lungo la costa. In giornata prevarranno i venti di brezza. Domenica cielo in genere sereno, poco nuvoloso, qualche modesto nuvolamento in montagna, poca cosa. Probabilità di rovescio in montagna rimane molto bassa se non addirittura nulla. Borino al mattino è in serata, lascerà posto in giornata sulla costa alla brezza. Temperature stazionare in nuova lieve ripresa ancora su velori estivi, 4-5 gradi sopra la media del periodo. Bel tempo con temperature ancora estive, anche inizio della prossima settimana, forse un po' di instabilità in montagna nel lunedì pomeriggio con qualche rovescio temporale, però anche in questo caso probabilità piuttosto bassa. E dello sottorio metodo dell'arpa Arturo Pucillo vi saluta.